5 i feriti 5 i feriti in tarda mattinata a Zanep un incidente stradale dovuto probabilmente ad una mancata precedenza e ha coinvolto in due auto schiando alle 11 e 10 il 13 novembre di Andrendo un giovane di 27 anni residente a Piovede Luchetti stava percorrendo la prima volta Aorus di Andrendo il giovane di direttore si viene quando giunto all'altezza dell'intersezione con via del gato e per causa di un posto di accertamento entra in collisione con una reddita una donna di 61 anni interutastico intenta di impegnare il giovane subveniente da via del gato e direttamente verso il giovane la collisione tra il due veicolo è stata più lenta e seduto il giovane di 4 i feriti in bando i feriti in tarda mattinata a Piovede Luchetti a sede 118 che hanno trasportato il pico di Giacomo con la riuscaldanza un posto una squadra di indigine del fuoco per la vista e sicurezza dell'aria dei veicoli a presto a presto a presto a presto